Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua ragazzi, dopo tanto tempo, ma primo pacchetto, come sapete, sono usciti i toti, i tots scusate, sono usciti i tots, primo pacchetto e guardate chi ho trovato ragazzi, ebbene si, deghe a tots Ha un 90 tuffo, 80 di presa, 88 di rinvio, 93 di riflessi, 55 di velocità e 81 di piazzamento Ok, adesso vedremo un po' delle clip che vi farò vedere con le parate migliori o magari i gol che avrà preso, così vedrete un po' se prenderlo o no Insomma, attenzione, Jovetic, deghe a, attenzione, deghe a, deghe a, ok, vabbè, questa era facile ragazzi Occhio all'inserimento dentro, Nasri, 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 il tiro, grande parata questa Proviamo un attimo il rinvio, vediamolo Beh dai, non male come rinvio, abbastanza preciso Vede dentro, Nasri, attenzione, deghe a, grandissimo Occhio, va dentro, Jovetic, grande parata, ancora lì Uh, qua però aveva preso, si era alzato subito ragazzi Proviamo un altro rinvio Questa è una grande parata di deghe a, bello questo rinvio Sì, è molto buono sto portiere, mi piace Sì, d'altronde è una carta blu, quindi ha anche il suo fascino di essere blu Va vuoto, ma c'è deghe a, grande uscita questa, buona uscita, grande, sì, grande tempo Ancora Silva, Jovetic, c'è lì E la palla passa, ed erete Qua, boh, è uscito abbastanza male deghe a Diciamo che, vabbè, praticamente nessuno para sti tiri qua Perché sono molto difficili in FIFA da parare Però poteva uscire meglio, secondo me Sbaglia qua, Nasri Nasri E passa qua, però Qua, secondo me, ha sbagliato veramente deghe a Cioè, gli è passato a, boh, 50 centimetri di meno 20 centimetri dalle gambe, ragazzi Qua poteva far sicuramente qualcosa Jovetic Luiz sbaglia Navas, Navas il tiro Buona parata Attenzione, Silva Silva, Silva il tiro Buona parata questa, eh Un buon tuffo qua di Di De Gea Attenzione, qua la ripartenza degli avversari con Jesus Navas Navas, il tiro E c'è un gol fantastico Eh, qua Brutto, brutto posizionamento Ma ha fatto un gol veramente bestiale Qua, sì E diciamo che Il piazzamento, cos'era, 81 Mi sembra Sì, si vede che non è uno dei più alti, diciamo Ecco Attenzione Il tiro L'uscita Mamma, mamma Bruttissima uscita qua di De Gea Brutta veramente A farfalle è andato Il corner di testa Grande parata questa, eh Grande parata di De Gea Questa veramente ha salvato Bella I riflessi si vedono Ok, finisce qua la partita, ragazzi Io spero che, insomma, questo video vi sia piaciuto Adesso come adesso Perché l'ho registrato praticamente 10 minuti dopo l'uscita dei Toti Perché sono le 7.10, ragazzi Quindi, sì 10 minuti dopo Adesso come adesso non c'è neanche il prezzo Del, di De Gea su Xbox One Però posso dirvi che su PS3 costa intorno ai 400.000 crediti Anche scenderà di sicuro E quindi, sì, penso che anche su Xbox vada dai 300 Sì, sui 300 arriverà Comunque Niente, è un buon portiere, ragazzi Non, sì Io non li spenderei i 300k È logico che c'ha C'ha il fascino di un Toz, insomma È logico Però io mi terrei il buon Il buon, sì Il buon check Peter check O Per un inglese, naturalmente O Joart, naturalmente Perché Sono veramente giocatori Baggati Portieri baggati Che ti salvano le partite Anche lui Anche De Gea Ti salva le partite, diciamo Perché abbiamo visto degli interventi Molto Molto buoni, diciamo E altri Normali, ecco E Però, insomma Io Io Resterei sempre ai soliti Art O Peter check Quindi Spero che questa recensione Anche se Sì Sia abbastanza corta Vi sia piaciuto Non metto Naturalmente I pro e contro Perché Li avete un po' sentiti Nei video E Per farvelo Più veloce possibile Non li metto Quindi Bella a tutti E alla prossima Ciao ragazzi Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti